Partiranno a breve ad Agropoli i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive dell'impianto Raffaele Guariglia. Di importo complessivo pari a 60.000 euro sono finanziati a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020. Gli interventi prevedono il rinforzo della pavimentazione della pista mennea in corrispondenza delle aree di stress, che sono le porzioni di superfici dell'impianto di atletica soggette a particolari sollecitazioni e quindi a maggiore usura, la ritracciatura delle strisce della pista, la sistemazione della gabbia di lancio, del disco e interventi agli spogliatoi, docce atleti locali ed ospiti in fissi, impianto elettrico ed idrico. L'impianto sportivo Guariglia con la pista Pietro Mennea, afferma il sindaco Adamo Coppola e il consigliere delegato allo sport Giuseppe Cammarota e il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda le strutture sportive location negli anni di eventi di levatura nazionale e internazionale. Puntiamo a migliorarne le condizioni, mettendo a punto delle azioni manutentive utili a rinnovarlo e anche a fornire maggiori comfort ai servizi collegati agli utenti fruitori.